guardate che colore che consistenza vero amico mio tra un po andiamo in cucina fantastico deve sapere di mare, freschezza ricordate amici in cucina fantasia amore e sapore questi sono gli ingredienti entrate nella mia cucina fatta di colori e sapori pochissimi passi e faremo grandissime ricette insieme seguitemi ho girato il mondo alla ricerca di profumi, gusti, sapori sono Stefano Marinucci e questa è la mia cucina